Avete visto che mettere fuori rosa i giocatori capricciosi fa bene? Ben ritrovato amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Stiamo parlando di Weston McKennie, il bimbo capriccioso, colui che voleva un rinnovo superiore ai 7 milioni. Ma caro McKennie, ma cuti che di essere? Dio in persona, amici bianconeri, andiamo ad approfondire bene quello che sta succedendo, perché? Perché Weston McKennie può essere rintegrato all'interno del progetto Juventus di Tiago Motta e non andare fuori rosa, o meglio fuori progetto. Andremo ad approfondire bene quello che sta succedendo, però prima amici bianconeri, lasciate un like se questo video sarà di vostro gradimento, commentate perché voglio sapere la vostra, ma la cosa più importante è solo una, iscrivetevi al canale, è gratis, sostenete me, sostenete un vero gobbo che difende sempre la Juventus. Poi mi raccomando attivate la campanellina così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, lei se non c'è di me, madame, messie, signore e signori, i miei signori, quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Weston McKennie clamorosamente ha riaperto la porta alla Juve per un rinnovo contrattuale che è in scadenza giugno 2025. La Juve rischiava, rischia di perdere McKennie a zero il prossimo anno, visto che McKennie è colui che voleva far saltare l'affare Douglas Lewis, era stato inserito nell'affare con la Stoneville, poi lui si è messo di traverso rifiutando tutto. Poi vi ricordate come andò a fine la Juve riuscì poi ad inserire all'ultimo momento Barra Enecea insieme a Eliki Junior e quel colpo andò in porto. E la Juve cosa ha fatto? Ha preso Weston McKennie e gli ha detto bene, tu vuoi fare il bimbo capriccioso, noi ti mettiamo fuori il progetto, ti mettiamo fuori Rosa. La Juve fa sul serio, signori miei, è vero che la Juve ad un mese è il mercato bloccato, ma è anche vero che ci sono dei giocatori che rimangono giocatori e non sono degli uomini, succede questo. Ma McKennie, a differenza di Federico Chiesa, sta facendo un passo indietro e cosa ha detto? Sì, voglio rinnovare alle condizioni della Juventus. Quali sono le condizioni della Juventus? Prolungamento, rinnovo di contratto a 2,5 milioni di euro che possono arrivare anche a 3, compresi bonus. Questa è una cifra ragionevole. Con questa cifra di 3 milioni, io Weston McKennie, che non è un fenomeno, che non è un campione, io me lo tengo. Perché può essere all'interno di questo centrocampo un ottimo sostituto, ma non stiamo parlando di un ottimo titolare. Ha fatto il titolare la scorsa stagione, perché sapevamo che la Juve, i giocatori aveva quelli. Dopo le squalifiche di fagioli è tutto qua. Se tu mi rinnovi a 2,5 milioni, che possono diventare anche 3, io ragazzi miei, lo prendo io a McKennie e loro rientri in squadra. Ma quando McKennie chiedeva 7 milioni di euro alla Juve, carissimo Weston, te lo dico in siciliano, ma tu ti credi di essere? Dio in persona? E allora amici biancolieri, stiamo un po' tutti calmi perché la Juve è vero che può sempre essere cattiva con il fuori rosa, i fuori progetti e tutto, però serve per dare una lezione a questi giocatori che si credono Dio è sceso in terra e non lo sono. Perché ragazzi, il Dio è sceso in terra a livello calcistico sono stati pochi, se non dico pochissimi, vogliamo citare i Pelé, i Maradona, mettiamo pure il cartonato di Ronaldo e Fenomeno, ci mancherebbe altro, Cristiano, Ronaldo, Messi, vogliamo mettere del Piero, vogliamo mettere Totti. Ragazzi, lì sì che allora ci sbilanciamo e diciamo ne vale la pena. Ma carissimo questo McKennie se girovi che ti dà 3 milioni di euro, corri in fretta e riprenditi il posto alla Juve perché un posto alla Juve non è importante, è l'unica cosa che conta. Allora caro amici bianconiere, volevo raccontarvi un po' quello che sta succedendo e anche dirvi la mia opinione, che la mia opinione a queste cifre sono d'accordo, sono cifre ragionevoli, sono cifre di un giocatore che si può giocare le carte. In che senso? Parti dalla panchina, però se ti giochi bene le carte e con una nuova squadra, un nuovo mister, puoi anche diventare un titolare. E ragazzo mio caro McKennie, caro Weston, con questi bel riccioloni, se dimostri di essere un vero campione in una nuova Juve, allora sì che puoi chiedere l'aumento, ma ad oggi il passo che stai cercando di fare secondo me è il più giusto, rinnovare cifre abbordabilissime e noi come sempre ti accogliamo a braccia aperte, come volevamo fare con Federico Chiesa, ma ormai Federico Chiesa non ne vuole sapere, la Juve l'ha messo fuori Rosa, ma un grande ma, le vie del calciomercato sono sempre infinite, non si sa mai se la telenovela Federico Chiesa può finire qui, ad oggi la Juve gliel'ha detto, non rinnovi, fuori Rosa, così è successo con Weston McKennie, fuori Rosa, ma Weston McKennie ci sta ripensando, vediamo come andrà a finire, aspettiamolo, evolversi di questa lunga lunga storia di un'estate caldissima, di un'estate partita col boom della Juve e poi si è bloccata, diciamo, per dei giocatori che hanno chiesto troppi soldi e la Juve gli ha detto assolutamente no, aspettiamo, io aspetto voi nei commenti, fatemi sapere la vostra, è importante, fatemi sapere la vostra, se ci sono poi aggiornamenti, sono sempre qui presente, in primis a difendere la nostra Juventus e poi tutto il resto. Fino alla fine, forza Juventus e Yemen Nevaio, ossa benedica a tutti i picciotti, ciao!